Il Consiglio regionale ha approvato il documento di economia e finanzia della Regione Campania 2024-2026. Il Consiglio regionale della Campania, preseduto da Gennaro Oliviero, ha approvato con 28 voti favorevoli della maggioranza, mentre i consiglieri dell'opposizione hanno abbandonato l'aula, il documento di economia e finanza della Regione Campania 2024-2026 e la relativa risoluzione di maggioranza. Migliorare i servizi del sistema sanitario regionale, semplificare il rapporto tra cittadine, imprese e pubblica amministrazione regionale, favorire lo sviluppo economico e occupazionale attuando il PNRR, impiegando i fondi europei e puntando sulle politiche per l'istruzione, la formazione e il lavoro a crescere la sostenibilità ambientale per una Campania Green. Sono quattro le direttrici sulle quali si articola il DFRC 2024-2026, che punta tra l'altro sulla transizione ecologica, energetica e climatica, sul potenziamento dei trasporti, sull'innovazione digitale, sul miglioramento dei servizi sanitari, sulle politiche per l'istruzione, la formazione e il lavoro, come ha spiegato il presidente della Commissione regionale, bilancio, Francesco Picarone. Quindi ci sono tutte le politiche e ovviamente tutti gli obiettivi che sono quelli dell'EA, quelli sanitari e dei servizi alla persona, quelli alle fasce deboli, quelli di contrasto rispetto alle politiche di arretramento produttivo, quindi per il rilancio dello sviluppo e dell'occupazione, tutte le cose che sono importanti per il trasporto pubblico locale, per tutto quello che riguarda le strategie generali. Sappiamo che è importante sottolineare che gli obiettivi disegnati per i dirigenti a discendere per i funzionari e per il personale dell'Aggiunta regionale sono molto collegati a missioni e programmi, quindi ad obiettivi politici presenti all'interno del documento di economia e finanza, perché il bilancio regionale triennale appena sarà redatto a fine anno non potrà far altro che far riferimento a quello che è scritto nel DEFRA. Siamo soddisfatti di non essere mai andati in esercizio provvisorio, di continuare politiche senza disavanzi di bilancio e di tenere i conti in ordine. Quindi oggi si celebra un'altra giornata importante e credo che sul bilancio la Regione Campania stia dando veramente il meglio di sé. Grazie a tutti.